Professor Mauro, pochi giorni fa la Banca d'Italia ha detto che l'economia abruzzese ha ripreso a camminare, ci sono numeri positivi, siamo anche in estate, il turismo potrebbe dare un'ulteriore mano alla locomotiva Abruzzo? Io ritengo di sì anche perché i dati successivi, quelli relativi al primo trimestre del 2023 segnalano una ripresa sul piano occupazionale, sul piano delle esportazioni e anche con riferimento al prodotto interno lordo, quindi noi abbiamo un quadro positivo che è riferito al primo trimestre del 2023. E' chiaro che con l'avvicinarsi dell'estate vi sarà un ulteriore impulso sotto il profilo dei servizi e quindi il turismo potrebbe imprimere ancora una volta un impulso positivo. All'interno di questo quadro che come si vede presenta situazioni di grande interesse ci sono anche elementi che vanno valutati, direi che questi elementi riguardano da un lato l'inflazione che non diminuisce, almeno non diminuisce per i beni alimentari, anzi tende a crescere e quindi questo riduce il reddito reale delle famiglie, quindi i consumi. E poi abbiamo questa politica monetaria e restrittiva della Banca Centrale Europea che proprio di recente ha aumentato dello 0,25% i tassi di interesse e pare che si appresti a un altro aumento nel mese di luglio. Il che vuol dire che politica monetaria e restrittiva significa meno mutui per le famiglie e soprattutto meno investimenti per le imprese che andranno a confluire in termini negativi sul livello del reddito. Compensando a mio avviso la questione della crescita dovuta al turismo è tant'è vero che le simulazioni che noi abbiamo al momento sul prodotto interno lordo, che come è noto è il maggiore indicatore, il più importante, ecco noi abbiamo che il PIL dovrebbe attestarsi sopra l'1%, quindi con un calo rispetto al 2022 che era stato del 3,5%. Grazie 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 Grazie